La mostra di spina etrusca qui a Villa Giulia è un avvenimento molto importante per la nostra disciplina di studiosi di etruscologia. Io ho studiato per tanti anni gli etruschi di spina e quelli della pianura padana, considerati fino ad oggi un po' periferici rispetto agli etruschi di Cervetere e di Tarquinia. La venuta di questa mostra a Villa Giulia ha anche un significato simbolico, nel senso che questi etruschi di spina qui nel tempio dell'etruscologia stanno a significare che la civiltà etrusca ha un aspetto nazionale e unitario. La venuta a spina di questa mostra sta a significare che anche gli etruschi del nord partecipavano dei grandi processi storici che hanno interessato la civiltà etrusca. Non a caso il gemellaggio, il porto di spina e il porto di pirgi, non a caso tanti comportamenti nel rituale funerario, nel modo di evitare, rendono questa civiltà sempre più uniforme, sempre più unitaria. Non a caso appunto le fonti parlavano di quasi tutta l'Italia sotto il dominio degli etruschi e mai come in questo caso la cosa è realmente documentata.